Timmy si allena in palestra ormai da diversi mesi, ma si accorge di non stare ottenendo nessun risultato. Ed è strano perché si sta impegnando molto e sta seguendo tutti i consigli ricevuti dai fitness influencer. Ma andiamo a vedere cosa combina Timmy nel dettaglio. Prima di tutto cambia programma di allenamento ogni settimana, perché ogni settimana scopre una cosa nuova, o una tecnica nuova, che dovrebbe svoltargli la vita e farlo diventare grossissimo. Poi Timmy ha sentito dire che per diventare grosso deve mangiare tanto. Eat big to get big. E quindi ogni giorno si spara un menù da 1500 calorie del McDonald's. E poi ha sentito dire che non dovrebbe mai andare a cedimento. E quindi ogni volta che fa una sera in palestra e sente un po' di bruciore nei muscoli, butta giù i manubri e dice ok, seria finita. E infine Timmy, anziché andare a dormire presto e riposare per bene, passa tutte le serate a guardare quegli stupidi video su TikTok e poi finisce per andare a dormire all'una o alle due di notte ogni singolo giorno. E poi c'è Tyler. Tyler segue lo stesso programma di allenamento da 12 anni. E comunque continua a vedere il suo fisico migliorare. Tyler mangia solo calorie pulite e cibo salutare. Cibo che lui stesso raccoglie con le sue mani o che cazza con la sua lancia. E in più Tyler sa che ogni volta che entra in palestra sta entrando all'inferno. Perché combatterà per portarsi a casa ogni singola ripetizione del suo allenamento. Quando avevo 15 anni vedevo i fitness youtuber, i fitness influencer, principalmente quelli americani, tipo David Laid, Jeff Zaid, Connor Murphy. E volevo avere il loro fisico. Li guardavo e sembravano dei bronzi di riace, delle statue, e anzi anche meglio delle statue. E volevo essere come loro, volevo avere il loro fisico. Ma non avevo idea di come farlo, di come ottenerlo. Sì, sapevo che dovevo allenarmi tanto e mangiare bene, ma non sapevo quanto dovevo allenarmi, come dovevo allenarmi, che programma seguire, cosa dovevo mangiare, quanto dovevo mangiare, quanto dovevo recuperare. E allora poi mi sono messo all'opera. Ho iniziato a sperimentare sul mio fisico. Ho iniziato a provare programmi di allenamento, tecniche, esercizi, tempi di recupero, a variare, a sbagliare, a rivariare, a ripetere, a rifare, a mangiare alcune cose, cambiare la dieta, provare un'altra dieta. Poi ho iniziato a studiare, guardare video su YouTube, corsi, leggere libri sull'argomento, prendere i primi integratori, provare con le proteine in polvere, creatine. Insomma, ho provato tutto. E finalmente, dopo anni e anni, errori, sbagli, eccetera, eccetera, sono riuscito a ottenere un fisico di cui sono fiero. Un fisico che se il me 15enne lo vedesse direbbe, porca troia, voglio essere come lui. E di questa cosa sono molto fiero. Anche io sono stato esattamente nella tua situazione. Una situazione in cui vorresti ottenere il fisico dei tuoi sogni, in cui vorresti avere il fisico di una statua, vorresti diventare più grosso, e nonostante tu ti stia impegnando, non riesci a ottenere quel risultato. Vai tranquillo, ci sono stato pure io, e voglio aiutarti a risolvere questo problema. Forse stai pensando che non ci riuscirai mai, o che non hai la genetica adatta. Non abbatterti. In questo video voglio parlarti dei 5 errori più comuni che ti impediscono di mettere su massa, di progredire in palestra e di ottenere il fisico dei tuoi sogni. Probabilmente stai facendo anche solo uno di questi 5 errori, ma è proprio quello che ti impedisce di ottenere il fisico che vorresti. Pensa se riuscissi a capire qual è quel problema, risolverlo e ottenere il fisico dei tuoi sogni. Quanto bene ti sentiresti dopo? Chiudi gli occhi e immaginatelo. Io in passato l'ho fatto e voglio aiutarti a fare lo stesso, quindi preparati e partiamo. Primo errore. Cambi troppo spesso. Quando ho iniziato la quinta superiore erano già un 3, 4, 5 mesi che mi allenavo con costanza. Avevo ottenuto degli ottimi risultati, ma una certa dopo questi 4, 5 mesi mi sono accorto che era in un periodo di stallo e il mio fisico non migliorava più. Non capivo il perché, cioè dopo aver ottenuto tutti quei progressi nei mesi precedenti il mio fisico era un punto di stallo e non voleva migliorare più. Poi mi sono accorto di una cosa. Passavo le giornate a scuola a creare programmi di allenamento che poi sperimentavo su me stesso. E ogni settimana, ogni due settimane cambiavo il mio programma di allenamento. Cambiavo gli esercizi, le serie, le ripetizioni, le tecniche eccetera eccetera. Ogni settimana, ogni due settimane, ripeto. Ed era questo il motivo per cui non stavo progredendo. Se invece avessi scelto un programma e l'avessi seguito per diversi mesi sicuramente avrei ottenuto più risultati perché devi capire una cosa fondamentale. Il motivo principale per cui i tuoi muscoli crescono si chiama sovraccarico progressivo ovvero progredire negli esercizi in palestra aumentando i chili sollevati, le ripetizioni, diminuire i tempi di recupero o aumentare il volume totale di allenamento di un muscolo. Quindi il progresso, questo sovraccarico progressivo ti permette di far crescere i tuoi muscoli. E quando io cambiavo la mia routine ogni due per tre non davo il tempo al mio corpo a progredire in determinati esercizi. Perché? Perché li cambiavo di continuo. Vuoi un consiglio pratico? Smettila di cambiare ogni due per tre. Prendi un programma di allenamento attieniti al programma senza cambiare le cose. Fidati del programma. Deve essere un buon programma ovviamente ma se tu lo seguirai per due, tre, quattro, cinque, sei mesi noterai che otterrai molti più risultati rispetto a cambiarlo ogni due secondi perché vedi un video su YouTube con un esercizio figo e allora lo provi. Leggi un articolo con una tecnica nuova e allora la provi. Quello ti sta fottendo. E infatti quando ho acquistato e iniziato a seguire un altro programma di allenamento ho notato che il mio fisico ha riniziato a migliorare. Quindi devi scegliere un programma di allenamento che ti permetta di concentrarti su pochi semplici esercizi e ti permetta di progredire in questi. Ti faccio un altro esempio. Per i tre anni in cui ho fatto video su YouTube sul mio altro canale non ho ottenuto molti progressi dal punto di vista fisico. Perché? Perché non riuscivo mai a seguire un programma di allenamento. Facendo i video, provando routine, cambiando di continuo non ho mai acquistato, non mi sono mai fatto seguire da nessuno non mi sono mai fatto fare un programma e questo mi ha limitato molto. Negli scorsi quattro mesi invece mi sono fatto seguire da un coach ho rispettato e sto rispettando alla perfezione il programma senza cambiare ogni due per tre e i miei progressi sono boom volati alle stelle. Negli scorsi quattro mesi sono migliorato molto di più rispetto agli scorsi tre anni perché ho seguito alla lettera il programma di allenamento. Errore 2 Non mangi abbastanza Se non hai abbastanza mattoni non puoi creare una casa e in questo caso la casa è il tuo fisico e i mattoni sono le calorie il cibo che introduci nel tuo corpo. Vedi, non puoi mettere su massa se mangi meno calorie di quante ne bruci ogni giorno. Se non sei in un surplus calorico non puoi mettere su muscolo. Devi mangiare più calorie di quante ne bruci ogni giorno. Semplice. Quante calorie? Dalle 300 alle 500 al giorno. Non di meno e non di più. Mantieniti in questo range e sarai sicuro. E se comunque pensi di star mangiando abbastanza ma comunque non metti su massa allora può essere che stai facendo uno di questi due errori. Il primo è che pensi di mangiare più calorie di quante ne mangi in realtà oppure che ne bruci di più di quante pensavi di bruciarne. Quindi o potrebbe essere che non stai mangiando abbastanza chilocalorie e nonostante tu ti racconti questa storia non lo stai facendo e basta. Come fai a sapere quante calorie mangi? Scaricati MyFitnessPal e calcola meticolosamente quante calorie introduci nel tuo corpo ogni giorno. Questo non devi farlo per il resto della tua vita però almeno per un periodo devi capire esattamente quante calorie introduci nel tuo corpo. Perché spesso quando metti su massa credi di introdurre nel tuo corpo più calorie di quante in realtà ne stai introducendo. Oppure potrebbe essere che hai un metabolismo della madonna e che bruci tantissime calorie ma il problema è sempre quello devi mangiarne di più devi introdurne di più è così semplice. L'altro motivo invece potrebbe essere che stai mangiando abbastanza chilocalorie ma sono calorie di poca qualità di scarsa qualità chesomai di zuccheri di cibi processati di grassi saturi e quindi quello che ti consiglio io è elimina la spazzatura dalla tua dieta non mangiare ogni giorno il McDonald's o una roba iper confezionata piena di zuccheri di merda semplicemente perché ti butta sulle chilocalorie. Mangia cibi salutari e completi perché quelli ti daranno veramente i mattoni di qualità per costruire il tuo fisico. Elimina il 95% al 100% la spazzatura della tua dieta mangia solo cose salutari se poi ogni tanto ti capita di buttarci dentro la schifezza al panino del McDonald's va bene ma di base il 95% del tempo devi mangiare roba pulita perché quella ti farà crescere davvero e devi mangiarla nella quantità giusta ovvero essere in un surplus calorico ripeto. Terzo errore non mangi abbastanza proteine questo problema è legato a quello precedente molto probabilmente sin da bambino hai sentito parlare male delle proteine le proteine sono per i palestrati le proteine fanno venire il cancro le proteine non fanno bene le proteine ti fanno stare male ma che cazzo le proteine sono uno dei tre macronutrienti fondamentali e ti assicuro che tua mamma o tuo papà che ti dicono che non devi mangiarne tante se ne mangiassero un pelo di più starebbero sicuramente meglio è semplicemente che non hanno un minimo di educazione alimentare te lo dico io perché nella mia famiglia è successa la stessa cosa vedo di continuo i miei o anche le altre persone che conosco raccattare buttare insieme dei pasti fatti a caso casomai solo di pasta solo carboidrati così e poi venire a dire a me che mangio male perché inserisco una quota proteica all'interno di ogni pasto è assurda la cosa una giusta quota proteica dovrebbe essere assunta da tutti in particolare da chi fa sport ancora di più se fai sport pesanti come la palestra il powerlifting il calisthenics o cose del genere il compito principale che hanno le proteine nel nostro corpo è quello di riparare i nostri muscoli infatti quando andiamo ad allenarci noi stiamo letteralmente distruggendo e creando dei piccoli strappi nelle nostre fibre muscolari il compito delle proteine è di andare su quei muscoli riparare questi strappi e far crescere il muscolo e prepararlo alla prossima volta che lo sottoporremo a uno stimolo del genere quello dell'allenamento così lui sarà pronto sarà abbastanza grosso e sarà già pronto ad affrontare il prossimo allenamento quello è il compito principale delle proteine se tu non assumi abbastanza proteine il tuo corpo non è in grado di sistemare quei danni che li crei con l'allenamento e quindi non diventi più grosso i tuoi muscoli non crescono in ogni singolo dei tuoi pasti dovresti introdurci una quota proteica non è che a colazione no non devi inserire le proteine non è che nella merenda no non devi inserire le proteine ogni singolo pasto dovresti inserirci una quota proteica più o meno grande quante proteine devi mangiare ogni giorno? 2 grammi per chilo di peso corporeo l'ho già detto in altri video puoi fare 6 milioni di calcoli 2 grammi va benissimo il che vuol dire per esempio che nel mio caso che peso 80 chili devo mangiare 160 grammi di proteine ogni singolo giorno altrimenti non posso mantenere questi muscoli o diventare più grosso è così semplice non complicare le cose giusto per darti una mano ecco una lista dei cibi più proteici su questo pianeta il petto di pollo il tacchino la carne di manzo le uova i fiocchi di latte il pesce come tonno e salmone le lenticchie i fagioli e ce ne sarebbero tanti altri ma questi sono tipo i più proteici quindi in ogni pasto inserisci uno di questi alimenti in modo da essere sicuro di assumere abbastanza proteine in ognuno dei tuoi pasti un'altra alternativa molto comoda sono le proteine in polvere ci ho fatto un video in cui ti spiego tutto quello che devi sapere a riguardo te lo lascio qui sotto in descrizione e se stai cercando delle proteine in polvere di qualità ti consiglio quelle della Zecplast ti lascio sempre il link in descrizione i miei gusti preferiti sono il cookies and cream e il cioccolato alla menta e utilizza il codice leone58 per risparmiare il 10% su tutti i tuoi acquisti e per supportarmi se ti sto dando delle informazioni utili in questo video grazie leone errore 4 sovrallenamento e poco recupero puoi avere la routine perfetta essere in un surplus calorico mangiare tutte le proteine di questo pianeta ma comunque se non dai la giusta attenzione al tuo recupero non diventerai mai grosso fuck rest days sono un guerriero mi alleno 16 volte alla settimana bravo stupido è giustissimo spingere forte in palestra e se mi conosci e hai mai visto uno dei miei video sai che è decisamente la mia filosofia e non ti direi mai di fare l'opposto ma devi anche dare al tuo corpo il giusto tempo per recuperare e adattarsi agli stimoli che gli stai fornendo in particolare se sei nuovo al mondo della palestra come ti ho detto prima quando ti alleni stai letteralmente danneggiando i tuoi muscoli stai creando questi piccoli strappi nelle tue fibre muscolari e devi sapere una cosa i tuoi muscoli non crescono quando sei all'interno della palestra lì li stai distruggendo i tuoi muscoli crescono quando recuperi c'è infatti questo processo nel nostro corpo chiamato anabolismo ed è il processo per cui le proteine e i nutrienti mi auguro di qualità che introduci nel tuo corpo vanno a riparare i danni che hai creato durante l'allenamento nei tuoi muscoli e li fanno crescere, diventare più grossi e li preparano per lo stimolo successivo se tu non dai il tempo al tuo fisico di fare ciò non diventerai mai grosso quindi domandona come fai a recuperare per bene? prima di tutto seguendo un programma di allenamento che ti permetta di avere dei rest days dei giorni di recupero e come seconda cosa dormendo abbastanza dalle 7 alle 9 ore a notte non di meno quindi anziché passare il tempo su TikTok, su Instagram o su YouTube vai a dormire una o due ore prima vedrai che diventerai più grosso e nelle prossime settimane volevo proprio creare un video sul recupero e sul sonno perché molte persone dormono male o non dormono abbastanza e questo ha una serie di effetti negativi non solo sui loro progressi in palestra ma anche su molti altri aspetti della loro vita come la concentrazione, il focus, il lavoro, le relazioni eccetera eccetera quindi ci creerò un video a riguardo nelle prossime settimane tu intanto iscriviti al canale per rimanere aggiornato io stesso in questo periodo sto cercando di migliorare il mio recupero e di ottenere più ore di sonno e più di qualità quindi per ricapitolare dormi e recupera bene anche perché se non dormi abbastanza prima di tutto ti si abbasseranno i livelli di testosterone che è un ormone fondamentale per la crescita muscolare e in più se dormi troppo e poche ore il tuo corpo non avrà il tempo necessario per rilasciare le giuste dosi di GH ovvero l'ormone della crescita che è un ormone che come suggerisce il suo nome ha il compito di far crescere le cose e tra queste tante cose ci sono anche i tuoi muscoli quindi dormi e recupera bene quinto errore non spingi abbastanza sono sicuro che anche tu nella tua palestra hai visto qualcuno un ragazzo, un signore anche più adulto che parla tutto il tempo che non fa mai fatica non lo vedi mai digrignare i denti stringere i denti dalla fatica e spingere nelle ultime ripetizioni si lo vedi fare un due serie abbastanza sereno scambiare quattro chiacchiere di qua e di là ma non lo vedi mai spingere forte e infatti sono anche abbastanza sicuro che quel ragazzo, quel signore ha sempre lo stesso fisico da anni e anni perché? perché non spinge lo vedi sta due ore in palestra ogni giorno e non ha nemmeno una goccia di sudore addosso quindi il quinto errore quello che potresti star facendo anche tu in questo momento è che non spingi abbastanza e non dico che passi tutto il tempo a parlare non hai nemmeno una goccia di sudore se lo fai vergognati dico però che non stai spingendo abbastanza fino a quando senti i tuoi muscoli andare a fuoco c'è un motivo per cui quando vedi i video di Tom Platz di Schwarzenegger o di Ronnie Coleman stanno urlando hanno delle facce da culo pazzesche sai perché? perché stanno provando del fottuto dolore fisico quando fanno la serie ad ogni singola ripetizione ma è anche quello il motivo per cui sono grossi come dei camion oltre a tanti altri motivi ovviamente e sia chiaro ora non sto parlando ai principianti principianti perché quando sei nei primi mesi di allenamento comunque facendo una cosa o l'altra anche fatte un po' male butterai su un po' di massa adesso sto parlando a chi ha un pelo di più di esperienza in palestra quando stai facendo un esercizio devi spingerti al limite quasi al fallimento dovresti fermarti una, due, massimo tre ripetizioni prima del tuo cedimento e ti assicuro che come cosa è molto dolorosa ma è proprio quella che ti farà crescere ora probabilmente stai pensando ah ma io mi alleno forte io spingo forte ogni volta c'è una grossa differenza tra il sentire un po' di bruciore nei muscoli e l'andare quasi a cedimento quando stai spingendo davvero quasi fino al limite lo sai perché il tuo cervello ti dice ok va bene basta sono a posto così non devi fare neanche più un'altra ripetizione siamo a posto quando il tuo cervello ti dice quelle robe lì e trova qualsiasi scusa per farti smettere di fare quella rap allora sai che stai andando vicino al cedimento ovviamente con una buona tecnica per evitare di farti male o di lavorare con i muscoli sbagliati la maggior parte delle persone probabilmente anche tu fino a questo momento pensano di spingere in palestra pensano di essere quasi al limite quando in realtà fanno la serie e come sentono un po' di bruciore smettono e pensano di essere vicino al cedimento no il limite è molto più in latte lo assicuro e non è nemmeno un discorso motivazionale del tipo quando hanno chiesto a Muhammad Ali quante ripetizioni fai per esercizio e lui ha detto non inizio a contare fino a che non brucia questa è una cosa motivazionale ma questa è veramente una cosa tecnica cioè quando tu senti un po' di bruciore vuol dire che il muscolo sta lavorando e poi devi andare ben oltre devi proprio sentirlo deve farti male deve bruciare devi dire oh cazzo non lo voglio più fare e devi farlo comunque lì sai che stai lavorando per bene perché ti assicuro che il tuo limite il cedimento è molto più in là di quanto tu pensi se vuoi diventare grosso mettere su massa e ottenere il fisico dei tuoi sogni dovrai fare questa cosa ogni volta che entri in palestra ogni volta che entri in palestra come Tyler devi sapere di andare all'inferno ogni volta che inizi una serie devi sapere che stai affrontando un mostro stai andando all'inferno stai andando in guerra perché ogni serie dovresti dire porca troia devo rifarlo brucerà fottutamente tanto mi sono scritto questa frase devi guardare i manubri il bilanciere o la sbarra e sapere che stai andando in guerra devi sapere che nel momento in cui inizi la serie ti stai infilando temporaneamente all'inferno e che ne uscirai solo un attimo prima della fine ovvero del cedimento e se ogni tanto vai a cedimento non guasta perché ti fa capire qual è il tuo limite quindi questi erano i 5 errori comuni che ti stanno ostacolando nel raggiungere il fisico dei tuoi sogni se hai domande fammelo qui sotto nei commenti se hai bisogno di qualsiasi tipo di integratore come delle proteine in polvere e creatina pre-workout ti lascio il link qui sotto in descrizione codice LEONE58 iscriviti al canale perché ne arriveranno molti altri di video del genere e Leone ci vediamo nel prossimo video e leone ci vediamo nel prossimo video